Il terzo settore in Toscana è una realtà viva e sensibile, sono 125 su 10.000 i toscani che fanno volontariato, una media superiore a quella nazionale che si ferma a 91 e sono quasi 7.000 le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali attive nel territorio regionale alla fine del 2019, mentre sono più di 27.000 le istituzioni no profit che contano 51.000 dipendenti e che funzionano anche grazie all'apporto di 470.000 volontari. Questi numeri emergono dal terzo rapporto regionale sul terzo settore, presentato in regione Toscana con l'assessora sociale Serena Spinelli. Sono una regione che ha una rete di comunità, di associazioni, di presenza, insomma chiunque di voi va in un piccolissimo territorio di questa nostra regione trova un presidio sociale di qualche genere che era il luogo di socializzazione o trova l'associazione che risponde, eccetera, e che si incrocia con l'attività degli enti locali, perché io voglio ricordare a tutti noi che la regione è ok, ma senza i comuni, senza il loro supporto, capacità di fare rete sul proprio territorio, non gestiremmo e non faremmo quanto è necessario fare. Spinelli ha parlato del terzo settore come una realtà radicata e diffusa, con tante attività e servizi diversi, ma comunque una realtà assegnata dalla pandemia da Covid-19, definita dall'assessore un evidenziatore di alcuni aspetti della società. Io credo che se noi pensassimo che l'emergenza Covid ha tirato fuori una serie di difficoltà come se queste prima non esistessero, allora dovremmo solo ragionare del fatto che se una forza finita la pandemia è tutto a posto, è tutto in equilibrio. In realtà abbiamo visto come l'emergenza sanitaria e le conseguenze che l'emergenza sanitaria porterà con sé battano più fortemente su quelle che erano già situazioni di difficoltà. Penso a tutto il mondo della fragilità, dagli anziani alle persone con disabilità, alle famiglie che vivevano già in una situazione precaria dal punto di vista economico, a quanto si determinerà in termini di povertà educativa e povertà abitativa. Situazioni già in equilibrio precario che naturalmente sono ancora più esplose con il Covid. Parliamo di circa 7.000 soggetti fra associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariate e cooperazione sociale a fronte di oltre 27.000 istituzioni no profit presenti in Toscana e censite da Istat. Quindi sostanzialmente noi dialoghiamo formalmente con una platea ampia di soggetti che rappresentano questo grande capitale sociale che è presente in Toscana. Il terzo settore in Toscana comprende 3.287 associazioni attive principalmente nei settori sociale e sanitario, 2.915 associazioni nei settori culturale, educativo e sportivo ricreativo e 575 cooperative sociali per un totale di 6.777. In Toscana si rileva anche una buona capacità di creare lavoro, con 14 dipendenti ogni 1.000 residenti, un dato in linea con quello nazionale. La Regione punta molto sulla coprogrammazione e coprogettazione tra istituzioni e terzo settore per sviluppare interventi e azioni condivise sui territori. Con il Covid probabilmente arriveranno ad avere bisogno di supporto, bisogno dei servizi, nule persone che probabilmente senza l'emergenza avrebbero continuato a mantenere un loro equilibrio personale o familiare. Penso a chi rischia di perdere il posto di lavoro o chi ha difficoltà in questo momento a sostenere l'affitto o anche un mutuo, perché naturalmente c'è anche chi paga il mutuo in questo paese e ha acquistato una casa magari in sua situazione personale o familiare di maggiore equilibrio che in questo momento rischia di venire meno. In concreto la Regione Toscana ha stanziato 4,2 milioni di euro nel 2020 ed è pronto un nuovo stanziamento da quasi 6 milioni di euro per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza sanitaria sugli enti del terzo settore. È un bando per 5,8 milioni di ristoro rispetto a tutte le associazioni di promozione sociale, associazioni circolistiche e le fondazioni. Interverremo poi con tutte le risorse nazionali che avremo e anche naturalmente con i nostri bandi legati al sociale. Quello che noi dobbiamo costruire con il mondo del terzo settore sono relazioni per i quali si costruiscono insieme progetti che possono essere quindi anche finanziati in strumenti diversi. Sostegni importanti per il terzo settore arrivano anche dalle fondazioni bancarie e dal 5 per mille. Dalle fondazioni sono arrivati 105 milioni tra il 2015 e il 2019, dal 5 per mille più di 20 milioni nel solo 2019. il terzo settore, con le varie attività che svolge, come lo sport, risponde a desiderio di coesione sociale, fortemente represso in quest'anno in cui il distanziamento sociale è divenuto una misura di prevenzione del contagio da coronavirus. Tuttavia c'è tutta una serie di monti associativi che danno risposte in termini di opportunità di coesione sociale, che sono strumenti straordinari. Lo sport è uno di questi, ad esempio, perché non è che tutti si fa sport solo perché siamo dei grandi compioni, cioè lo sport è strumento di salute, è strumento di coesione sociale, ma anche tante altre opportunità di coesione che sono possibilmente rappresentate dalle associazioni che ci sono sui territori, che danno spazi di incontro, spazi di relazione, e così via è chiaro che nella fase di pandemia tutto questo ha ridotto fortemente le possibilità dei giovani di incontrarsi, trovarsi e continuare ad avere una modalità di vita che le era propria. Per il 73% degli enti del terzo settore la pandemia ha significato una riduzione o una chiusura delle attività. Per il 19% l'attività è rimasta stabile e solo l'8% l'ha aumentata, ma c'è stata anche una grande capacità di adattamento, tanto che un ente su tre ha cambiato le proprie modalità organizzative. Il terzo settore si è immediatamente chinato per accogliere i bisogni della popolazione e delle comunità locali e si è reso disponibile. Allo stesso tempo le organizzazioni, la cooperazione sociale, hanno subito davvero dei forti rallentamenti, una riorganizzazione notevole delle proprie funzioni e delle proprie attività. In modo particolare direi la cooperazione sociale ha risentito fortemente di questo impatto perché risulta ad oggi che oltre il 50% del personale della cooperazione sociale in Toscana abbia dovuto utilizzare le misure di sostegno e quindi gli ammortizzatori sociali ressi disponibili a livello regionale e nazionale per i propri dipendenti. A causa della pandemia gli anziani hanno diminuito il loro apporto nel mondo del volontariato. Però mi fa molto piacere che i giovani invece ritrovino nel volontariato una dimensione di espressione propria e di capacità di dare alle proprie comunità. Vi ricordo che i numeri di accesso al servizio civile regionale sono alti in questa regione quindi significa che c'è un mondo giovanile che ha assolutamente la voglia e la capacità di misurarsi con la dimensione della comunità in cui vive. In questo senso l'assessora Spinelli ha ricordato l'importanza di donare parte del proprio tempo per gli altri. Beh insomma questo credo sia un tema straordinario. È anche vero che con i cambiamenti del modello di lavoro avere tempo libero in una società che lavora tante ore al giorno è molto difficile. Insomma le generazioni che ci hanno preceduto che avevano un lavoro più stabile, più regolare avevano anche più facilità. Tuttavia se noi perdiamo questa dimensione che in questa regione è molto forte cioè i numeri dei volontari in questa regione è molto alto, più alto della media nazionale significa che c'è una dimensione in cui le persone trovano la voglia di dare del tempo agli altri. Poi io penso che quando si dà del tempo agli altri in realtà si dà qualcosa a noi stessi. Io non credo ci sia niente di più appagante di aver contribuito magari in una misura piccolissima al benessere di qualcun altro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.